Ho fatto un esperimento che è andato malissimo, infatti guardate che disastro! Ora però vi voglio mostrare che cosa è successo. Ho visto un video e ho voluto provare a replicarlo, così ho steso il colore sulla tip e ho iniziato a riempire con l'acrigel. Però le aspettative non erano altissime, immaginavo che ci sarebbero stati dei problemi di polimerizzazione. Ma ho voluto provare lo stesso, ho avvicinato la tip alla lampada e ho cercato di polimerizzare il tutto. Una volta tolta la tip, ecco il risultato. Sono andata a sistemare un po' i bordi, ma già mi ero accorta che c'era qualcosa che non andava. Ma per amore del video ho voluto comunque continuare fino alla fine, ho sigillato e ho messo l'olio. All'apparenza l'effetto sembrava molto carino, peccato però che non era per niente polimerizzato. Ma non importa, gli esperimenti sono anche questo. Certo che se avesse funzionato sarebbe stato veramente interessante. Magari riproverò facendo qualche modifica alla tecnica. Ci devo solo pensare un po'. Ma ora godetevi il triste epilogo di questo esperimento.